Buongiorno amiche, ben svegliate, buon lunedì e buon inizio settimana a tutte quante. Io ho tanto tanto sonno, ma sono uscita anche oggi dal sarcofago per mettermi questa meravigliosa fascetta skinker con le sembianze di una renna, o almeno spero. Che dite, riuscirò a sembrare una rennina di babbo natale con questa simpatica fascetta per skinker? Allora, prima di tutto è molto importante amiche togliere la plastica, perché sappiamo che se no ce ne sono un miliardo e mezzo e ci scarciofiamo come minimo la faccia. Ora proviamo a vedere se riesco a così, direi di no, è carina, ma anche no. Proviamo a posizionarla nel modo consueto. Amiche, fatemi sapere come state nei commenti, se c'è bel tempo, com'è il vostro inizio di settimana, spero tutto bene. Bene, ora andiamo a fare come di consueto, come il nostro solito, un cocon dietro, perché se no i capelli in faccia mi danno fastidio. A voi danno fastidio, fanno i solletti con i capelli quando fate skinker, io non sopporto proprio averli in faccia, ma guardandomi in camera mi faceva troppo ridere questa fascetta con ste due cornine, super carine. Adesso come primo step skinker andiamo a applicare il tonico Absolue Rose di Lancome, ma con le nostre amatissime spugnete dischetti bio in cottone riciclato, che sono super carine e io le tengo in questa borsina trasparente, fatta a rete, che è molto comoda. E molto facili, sono molto facili anche da lavare, io di solito li lavo a mano, se no si possono lavare tranquillamente anche in lavatrice, per esempio con gli asciugamani. Meglio perché così fate un lavaggio anche ovviamente a un po' di gradi e vengono belle pulite. Ora andiamo a massaggiare col tonico di Lancome che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento. Questo tonico è rivitalizzante ed ha anche tanta tanta luce. Ora andiamo ad applicare il Labello Scrub che mi piace tantissimo, è rosa canina. È super delicato, è super profumato, mi dà proprio una sensazione di coccola. Mi piace, devo dire che è uno step che mi dà anche una sensazione di svegliarmi un po' di più la mattina. Ora è la volta del siero, questo è il siero di Shiseido Ultimun Power Infusing. È un concentrato energizzante che ho praticamente piccolino, un 10 ml, perché era in un kit contenuto in una pochettina dove c'erano tanti prodottini di Shiseido da provare. E mi piace, devo dire che mi piace proprio tanto. Ora andiamo ad applicare la Total Hey Lift di Clarence. Questo è un trattamento contorno occhi effetto lifting, ridensificante, veramente super. Mi piace tanto, non va né a pesantire il contorno occhi né a, diciamo, a impiastricciarlo. E la resa del correttore è super con questo contorno occhi, con questa crema, perché è densa al punto giusto. E ora andiamo a consumare, che sono giorni che cerco di finire questa crema, ma non ci posso riuscire a una crema di Clarence per pelli normali e secche, ma che non voleva uscire dal tubetto, amiche. Quindi l'abbiamo spaccato a metà e ho visto che ce n'era un chilo e mezzo. C'è un secchio ancora ce n'è qui dentro. Andremo avanti un po' di giorni con questa crema, perché ormai poi è aperta e ho paura che si secca, perché l'aria, per quanto poco è entrata, ma la salutiamo e ci vediamo domani. Ciao cremina! Ora andiamo a massaggiare bene la crema e questa è una crema che io trovo molto delicata sulla mia pelle, confortevole, mi fa durare anche tanto la base, il fondotinta, non va a darmi fastidio. Poi certo, questo dipende da persona a persona, da pelle a pelle e sulla mia pelle la trovo veramente confortevole. Ora andiamo a applicare la crema di Clarence solare, perché l'altra crema non aveva l'SPF. Andiamo a applicare una crema solare con l'SPF 30. Ne metto poca, non tantissima, perché oggi non penso soprattutto di andare in giro, ma poi questa crema mi va un po', se ne metto troppa, ad appesantire la pelle mi dà fastidio. Allora preferisco essere comoda e metterne pochina. Adesso vado a tamponare un po' lo scrub che era rimasto sulle labbra per applicare questo bellissimo balsamo di Deborah in formula pura con 0% fragranze, petrolatti e siliconi. È di Deborah e la colorazione è 0,5, ha dentro anche un SPF 25. Amiche, questo è veramente buona cosa. È un balsamo labbra idratante e nutriente e un po' a rosatino, quindi potete usarlo sia come balsamo per idratare le labbra, sia come step ultimo di, diciamo, rossettino che vi accompagna durante tutta la giornata. Ora andiamo a applicare la crema collo di Clarence. È un trattamento giovinezza décolleté collo levigante e rassodante. Questo è un tubo da 75 ml che costicchia, ma ho comprato in offerta in un momento in cui Clarence faceva gli sconti e soprattutto mi è durato tanto. Sono già sei mesi che lo utilizzo. Ora andiamo a applicare la crema Mani di Lancome. Una crema molto confortevole e super profumata, amiche. Questa me l'hanno data in omaggio con un ordine ed è al miele da caccia, se non sbaglio, e alle rose, acqua di rose. È super, amiche. Questa crema è veramente piacevole sulle manine. Prendiamoci cura delle manine perché è molto importante. E ora andiamo a provare per la prima volta il concealer di Revolution. È un correttore con colorazione C5 che sono molto curiosa di provare. Sono super curiosa, amiche. È di Revolution. E io non ho mai provato il correttore di Revolution. È la prima volta che ne provo una. Andiamo a applicarlo come sempre in modalità Skeletor. Così con queste steccate. Io mi trovo benissimo con questa applicazione perché non va a, diciamo, rimane tanta sulla pelle e posso dopo spalmarla con comodo. Adesso andiamo a provare il fondotinta di L'Oreal Accord Perfait in colorazione super scura. La colorazione, al momento, non riuscivo a trovarla quando ho aperto, diciamo, la bottiglietta. È veramente, veramente scura, amiche. Sono rimasta senza parole. Sono più scura della fanscetta Skincare da Rennina. E la colorazione era qua sul tappo, è il 10N Cacao. È veramente pazzesca. Ha dei riflessi dorati che sono veramente molto belli. E ora andiamo con una colorazione di fondotinta super chiara. È l'Instant Lift di Deborah. È un fondotinta effetto lifting istantaneo, amiche. con l'SPF 30. Quindi, buono, buono che ci sia l'SPF. La colorazione è la 01. È un 30 ml. E anche l'altro scuro è un 30 ml. Li ho pagati pochissimo. Li ho comprati in offerta 2,90 euro al Tigotà. E quindi, super convenienti. Speriamo che siano anche performanti, amiche. Che venga fuori una bella base. Perché, al momento, direi che non promette per niente bene. Perché sulle guance abbiamo un marrone veramente tanto scuro. Quasi troppo scuro rispetto a quello che uso di solito. E questa base chiara, il fondotinta chiaro, è un pochino grigietto. Quindi, vediamo se riusciamo a salvare la situazione. O se dovremo rincominciare proprio dall'inizio. Speriamo di no. Ora, bisogna armarsi di pazienza. E sfumare con la Beauty Blender. Come se non ci fosse un domani, amiche. Parola d'ordine, sfumare. Ma amiche, fatemi sapere anche nei commenti come è andato il vostro fine settimana. Voi siete riuscite a riposare un po'. Io ho pensato tanto alle rubriche nuove. Aggiungo ancora un pochino di fondotinta della colorazione chiara. Ho pensato tanto a delle nuove rubriche che possiamo inserire qua sul canale. Ho pensato a tante cose che vorrei fare. E in realtà, magari, riesco a farne meno di quelle che vorrei. Sto aggiungendo anche ancora un pochino di correttore perché mi voglio murare viva di correttore. Odio vedere le occhiaie tipo panda che mi accompagnano, diciamo, da tutta la vita. Io cerco di schiarire. Ma vi sta anche qua sul baffo, amiche. Perché il baffo è ingrigito e bisogna schiarirlo. Non voglio andare assolutamente in giro con la zona baffetto scura. Non mi piace. E quindi cerco di schiarire. Cerchiamo di uniformare un po' questa base. E sì, amiche, tante cose le vorrei fare. Ma alla fine, io questo fine settimana, ho pulito tantissimo in casa. E mi sono fatta la tinta. Quindi mi sono anche occupata un po' di me stessa. Però ho pulito tantissimo. E ora andiamo ad applicare questi gemellini. Amiche, sembro un Minions qua. Direi che sembro un Minions con questi due tondi negli occhi. Sono magnifici, sono il Maxi Blush di Rimmel. Una polvere blush che sono molto, molto curiosa di provare, amiche. E il Rimmel Stay Matte, la cipria in polvere, in cialda. Quindi una cipria compatta che abbiamo già provato nella colorazione 005. Invece il blush è in colorazione 006 Exposed. È super top, soprattutto perché li ho pagati uno 4 euro, mi pare, e l'altro 4 euro e 50, quindi pochissimo. Ecco, amiche, dopo l'infarinatura, come sempre, a modi totano, applichiamo un po' di blush, tipo Vispa Teresa, perché è un pochettino molto, molto, molto accentuato, amiche. Quindi andiamo a sfumare alla bene e meglio con il pennellone. Ora, spacchettiamo questa meraviglia, amiche. È bellissimo, è fenomenale. È in colorazione 01 e si chiama Spotlight dell'Holiday Premier di Kiko. Guardate che bello, sembra un gioiello, è super sparaflesciante, è veramente una meraviglia. E questo è il Face Highlighter Perli Duo di Kiko, 12 grammi di perla pura. È magnifico da vedere. C'è anche lo specchio e, secondo me, è super bougie, amiche. Come si dice adesso, super bougie, nel senso che è una roba lusso. Questo ce la mettiamo in borsetta e, quando capita, lo tiriamo fuori e facciamo una figurona, tirarlo fuori perché sembra veramente di avere in mano un gioiellino. Non costa neanche tantissimo. Io l'ho accattato con lo sconto sul sito ed ero molto, molto felice. Ora, ne applichiamo sugli zigomi, sul naso, la punta, un po' qua sulla gobetta per cercare di migliorare la situazione che ormai è sempre questa, la situazione del naso e sull'arco di cupido. Queste sono le zone strategiche consigliate per l'applicazione dell'illuminante. E ora, un'altra meraviglia, la seconda meraviglia della giornata, che si abbina, secondo me, a questa fascetta a mo' di rennina di Babbo Natale. È l'Holiday Premier, la palette di Kiko in versione natalizia dorata. E quindi mi richiamavano tantissimo queste due holiday premier, sia l'illuminante che la palette degli ombretti. Mi richiama un sacco il Natale. Ho deciso di mettere la fascetta Skincare da renna di Babbo Natale. Applichiamo prima di tutto questo doratino magnifico, amiche! Wow! Avete visto che bello? È super, super scrivente. Non ci deludono mai gli ombretti di Kiko. Mi tocca dire che sono super scriventi. Con un pennelletto di precisione andiamo a applicarlo nella zona interna dell'occhio per cercare di dare luminosità all'occhio e direi che ci siamo riusciti. Effetto? Quasi, quasi giorno di Natale, super splendente secondo me. Io amo alla follia amiche i dorati che tirano un po' sul bronzo e questo mi piace proprio da matti. È spettacolare secondo me. Ora cerchiamo di sfumarlo al meglio e cerchiamo di creare anche una piccola ombreggiatura con quello un pochino più scuro. Ma guardate qua, ero super curiosa di swatchare anche l'altro che è quasi un verdino. Utilizzeremo la prossima volta. Ora andiamo a utilizzare la matita nera Intense Color di Kiko Long Lasting Eyeliner nella colorazione dice numero 16 È nera, nera, super nera anche con lo sfumino e l'abbiamo trovata nel calendario dell'avvento di Kiko se non mi sbaglio e ne parlano tutti benissimo dicono che è una bomba questa matita occhi ero super curiosa di provarla un altro giorno penso che la proveremo anche da sola così la sfumiamo amiche vediamo se è anche molto sfumabile per disegnare la codina e creare diciamo dare un senso un po' meglio a questo ombretto perché non avevo un ombretto scuro in palette da sfumare insieme avevo solo dei dorati un dorato chiaro un dorato un po' più scuro un dorato che tira un po' sul verdino e un rosa quindi amiche non c'è nera scuro per fare tipo smokey eyes ombreggiatura non c'è nulla quindi per provare da sola questa palette mi è toccato inventarmi di utilizzare almeno la matita di Kiko che era nel calendario dell'avvento di quest'anno ora facciamo anche nel secondo occhio la stessa cosa e vediamo un attimo l'effetto se ci piace fatemi sapere nei commenti se vi dà un po' di vibe natalizio se vi piace questo look occhi io amo provare tutti i colori amiche così ci rendiamo conto del potenziale presente all'interno delle palette questa palette non mi pare che sia quella del calendario dell'avvento perché abbiamo trovato l'altra che era un pochino più rosata questa qua l'ho comprata separatamente ora andiamo a provare il mascara questa è la seconda volta che lo proviamo intense metamorphose spero che si dica così amiche perdonatemi sono sbagliato di brochet ed è nero ed è veramente buono mi tocca dire mi piace la prima volta sono rimasta bocca aperta perché va a volumizzare allungare separare le ciglia non le incolla minimamente devo dire che mi piace tantissimo per me è secondo solo all'ipnose di Lancome che amo veramente è secondo solo a lui è buono mi piace ora tamponiamo un attimo questo lip balm che è un pochino rosatino rosso quasi un ciliegia e andiamo ad applicare lip volume plumping effete effete scusate un lip cream di Kiko il numero di questo lip cream è lo 01 è super chiaro amiche in colorazione rosata lattiginosa e è un po' plumping quindi pizzica ma poco 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 questo è diciamo una confezione grandina perché sono 6,5 ml e secondo me è buono è il mio quasi preferito lo metto al secondo posto dopo il lip plumping trasparente di Dior questo a me mi piace per forma nella stessa maniera costa molto meno e quindi per me è un prodotto vincente cosa ne dite di questo make up fatemi sapere se vi piace se vi da un po' di vibe natalizio io lo trovo molto natalizio e anche un po' soft con questo lip gloss molto leggero fatemi sapere cosa ne pensate amiche come sempre io vi auguro un buon inizio di settimana un buon lunedì e vi aspetto nei commenti se vi fa piacere fatemi sapere cosa ne pensate di questo make up vi mando come sempre un bacio grandissimo amiche ci vediamo nel video del pomeriggio ciao ragazze un bacio ciao ciao Grazie a tutti.